Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Malta e oggi siamo qui con un nuovo video. Finalmente è uscito Seren Kagura Burst Renewal, lo sapevate, lo attendevo da davvero tanto, complice il fatto che è stato anche rimandato, infatti dovevo uscire intorno a novembre dell'anno scorso, ma per alcuni problemi tra Marvel e Sony è stato rimandato ed è uscito solo oggi, ovvero il 18 gennaio 2019. La domanda che alcuni si staranno facendo è, ma il gioco merita? Com'è? Adesso lo andremo a scoprire insieme, ma prima di iniziare, come sempre, ovviamente, via con la sigla! Partiamo subito dalla cosa che si vede subito appena accendiamo il gioco, ovvero il menu, che in questo caso viene chiamato Ninja Room, che è composto dalla modalità missioni, che rappresenta la modalità storia e la modalità missioni speciali, che sono delle missioni secondarie che servono ad allungare praticamente il gioco, la dressing room, che serve per vestire le nostre tipine in modo più o meno succinto, ma di quello ne parleremo dopo, la libreria che serve per vedere, per esempio, le immagini del gioco, ascoltare le canzoni e le statistiche, lo shop dove potrete comprare vestiti, accessori e moltissime altre cose, lo school select è praticamente un sottomenu per cambiare personaggio, i record sono le statistiche, mentre i settings sono le impostazioni. Ma entriamo nel vivo della nostra analisi, analizziamo una delle cose più importanti, se non la cosa più importante di Serran Kagura, e voi starete pensando, cosa? La storia? Il gameplay? No! La dressing room, che è uno degli aspetti che più contraddistingue Serran Kagura dagli altri giochi, è ricca di personalizzazione, potete cambiare il vestito, prima e dopo la trasformazione, l'acconciatura, l'intimo addirittura delle nostre donzelle e moltissime altre cose. È piena zeppa di vestiti, più o meno sexy, personalizzati, perché ogni tipo ha un vestito differente, quindi potrete cambiare tutto quello che volete. Purtroppo hanno tolto l'intimacy mode che era presente negli altri giochi, che consisteva nel poter palpare, in tutti i sensi, le donne, quasi a molestarle. Da una parte è giusto che l'abbiano tolta, dall'altra è una mancanza che faceva contenti molti fan della serie. Torniamo però a seri. Ora parliamo dell'aspetto grafico e del gameplay. Per quanto riguarda la prima cosa, trovo eccellenti modelli tridimensionali delle nostre lottatrici, delle nostre ninja. Sono davvero tutte ben diversificate e danno un buon colpo d'occhio, e riescono a fare bene il loro intento, ovvero quello di fanservice, perché sono davvero davvero sexy e davvero davvero carine. Per quanto riguarda invece i nemici, trovo che pur non raggiungendo il livello di dettaglio delle nostre protagoniste, siano comunque abbastanza dettagliati e si riescano comunque a distinguere l'uno dall'altro, nonostante magari alcuni siano solamente recolor o reskin con un cambio magari di vestito. Nota dolente, invece, per quanto riguarda le ambientazioni, che sono davvero troppo spoglie, tuttavia non vanno a debilitare il gioco. Sappiamo tutti che Saran Kagura non punta sulle ambientazioni, ma ovviamente sulle nostre tettone. Per quanto riguarda invece il gameplay, si mantiene sempre sugli stessi livelli di Estival Versus, con alcune novità. Infatti hanno aggiunto la modalità Burst e premendo il tasto L2 potete entrare in questa modalità per un breve periodo di tempo che vi farà fare danni maggiori e, alla fine della barra, un attacco molto potente che riuscirà a spazzare via tutti i vostri nemici. Diminuite invece il numero di lottatrici, siamo passati da circa i 30 di Estival Versus ai 10-12 di Burst, ma confido che gli altri personaggi arrivino tramite DLC nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la modalità storia, si presenta sotto le due diverse prospettive, dalla parte delle ninja buone e dalla parte delle ninja cattive, sono composte da circa 40 capitoli entrambe, dando una buona longevità al tutto, ricordando poi che ci sono anche le missioni secondarie che vi terranno impegnati a lungo. Di conseguenza il gioco ha una buona longevità e per sbloccare sia tutti i vestiti che tutti gli accessori e per finirlo al 100% ci verrà un bel po' di tempo, questo è un buon punto a favore per questo gioco, che risulta anche molto rigiocabile ad alte difficoltà, con un buon livello di sfida. Menzione d'onore invece per quanto riguarda le Shinobi Tenshin, ovvero le trasformazioni in modalità ninja, e gli attacchi speciali che sono davvero spettacolari e ben fatti. Quindi, consiglio Serran Kagura? Ovviamente dipende dai gusti, se siete delle persone in cerca di un gioco hack and slash molto a scazzo e pieno di fanservice, Serran Kagura è il gioco che fa per voi. Se invece siete a ricerca di qualcosa di un pochino più profondo e serio, potete tranquillamente sorvolare. Il video di oggi si conclude qui, spero vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti se volete vedere magari i gameplay più approfonditi del gioco, così da poter vedere qualsiasi altra roba presente, magari vi farò vedere anche meglio vestiti o cose così, basta che me lo chiedete nei commenti. Bene, ora è davvero tutto, vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale, condividere i video con questi amici, vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare il link per la mia pagina Instagram, la mia pagina Facebook. Noi ci rivediamo tra un paio di giorni, e ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!